Solo se verremo promossi però. Eh certo, i soliti ricattino. Se tu fai quello che ti dico io, allora siamo culi e camicia. Se no, quelli come Riccardo se non rompono le palle non sono contenti. Ma lo fa per il nostro bene. Ma io invece dico che lo fa per controllare la vita degli altri. Anche Alessandro dice che... Eh, Alessandro, 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 ma tu non sai parlare d'altro. Sono io tuo fratello, non Alessandro. Aspetta un attimo. Un po' di bietro. Riccardo non me la fa bene, dice che fa male. Eh sì, perché se no, va bene, ti vai il premio, no? Con le scimmiette amministrate. Eh, non è proprio così. Eh, allora fottitene. Tu devi fare le cose che ti piacciono, senza aspettare mai il progresso di nessuno. Avanti te, bevi. Amara, eh? Un pochino. Sì, ma le cose dolci sono da ragazzini. Dai, bevi, fidati che poi ci prendi gusto. Che cerchi? Un cestino, non buttarlo. Un cestino, ecco qua, un cestino. No? Riccardo avrebbe detto che esistino i cestini. E invece ti dico che esiste il lago. No. No. Grazie.